Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Computer Museo. In questa puntata andremo a fare un nuovo tipologia di progetti per Arduino. Infatti non saremo più con i progetti base solo con Arduino, ma adesso andremo ad utilizzare un nuovo componente, il componente Ethernet. E di questo vi devo far veramente vedere molto. Infatti quest'oggi partiamo da un progetto molto semplice su come comandare un buzzer. Questo qui che vedete è proprio una roba minuscola, mi devo avvicinare io alla telecamera e mettervi a fuoco perché altrimenti non vedete. Allora questo è un buzzer, come vedete è una suoneria con frequenza variabile. Questa invece è la scheda Ethernet, come ho anticipato, allora la scheda Ethernet che vi stavo dicendo prima è di circa, il costo è 12,90€ questa, perché ha anche il lettore SD card integrato nella scheda. E oltre a questo anche la scheda di rete. Altrimenti c'è un modello più base per chi non vuole pagare tanto questa roba, che è di circa 6€ ed è una scheda di rete proprio semplice. Dopo aver detto tutto questo partiamo con la sigla e subito dopo andiamo a vedere l'occorrente. Ok, le cose sono poche. Allora, come ho detto in anticipo ci servirà la scheda Ethernet che si trova su Ebay a solo i 12,90€, una resistenza da 220 Ohm, un buzzer e ovviamente anche i cavi di collegamento che ci sono di vario genere. Come vedete io ne ho di vario tipo, ci sono quelli maschio-femmina oppure maschio-maschio. In questo caso a noi ci serviranno maschio-femmina. Quindi adesso andiamo invece sullo schema elettrico. Bene, allora, il collegamento è molto semplice. Infatti dovremo andare a prendere il GND e tirarlo fuori dall'alimentazione. Nel stesso tempo dobbiamo andare a prendere il numero 3 del pin di Arduino e lo spostiamo pure questo all'esterno. Una volta che siamo sulla nostra breadboard dobbiamo inserire una resistenza dal lato positivo, quella da 220 Ohm. Questa la metto perché così almeno, essendo che mandiamo dentro al buzzer 5V, non vorrei che si bruci, anche se con 5V in teoria non si dovrebbe bruciare, ma per sicurezza diminuiamo proprio di poco l'alimentazione. Oltre a quello, una volta fatto tutto ciò, andiamo a collegare il buzzer alla nostra uscita. Quindi in questo caso avremo un buzzer collegato all'entrata 3 digitale del nostro Arduino. Quindi in questo modo. Una volta fatto tutto ciò, andiamo invece sul programma, che questa volta sarà molto più lungo. Ok, siamo pronti per andare a descrivere il programma che utilizzeremo quest'oggi. Allora, come potreste notare, adesso vado su fino all'inizio, andiamo, ok. Innanzitutto, per far funzionare questo servizio, bisogna avere le librerie Ethernet e Web Server, che trovate dentro al link in descrizione del video, che è collegato al nostro blog, dove troverete screenshot, lo schema in alta definizione e altre cose molto utili. Però adesso vi mostro proprio quello che dovremo andare a fare. Innanzitutto abbiamo settato che il nostro IP dovrà essere questo qui. In questo caso noi abbiamo un modem Netgear, quindi dovremo andare a impostare 0 e poi un IP che decidiamo noi, cioè 50. Una volta che abbiamo impostato tutto ciò, dobbiamo prescrivere proprio come se fosse un HTML. Quindi in questo caso abbiamo attivato che, abbiamo definito più che altro, che la pagina web dove appariranno le seguenti impostazioni del buzzer si troveranno in slash buzz. Quindi una volta fatto tutto ciò, il Web Server deve essere renderizzato sulla porta 80. Abbiamo definito anche il buzzer pin, che è il numero 3, e poi anche i vari timer, che in questo caso sono 0 perché non li dobbiamo utilizzare. Ora, andiamo giù nelle righe. Quindi siamo qui. Adesso questa parte è un pochettino più difficile. Questo è il Web Server. Praticamente abbiamo preso una riga di comando che si trova facilmente su internet e l'abbiamo descritta con le proprie caratteristiche. Abbiamo scritto anche una breve pagina web dove c'è scritto tester buzzer computer museo, testa il tuo buzzer. E qui possiamo decidere se spegnerlo, impostare una frequenza di 500 Hz, 1975 Hz, 3000 Hz e 8000 Hz. Quindi come vedete poi c'è il void setup, che abbiamo impostato il vario setup della pagina web, e il void loop, che praticamente serve nient'altro che una volta che usciti dalla pagina web, quando abbiamo finito la connessione, di spegnere in automatico il nostro buzzer, così rendendo la cosa non più fastidiosa. A questo punto, una volta che siamo pronti, andiamo sulla nostra tavola dove ci aspetta il collegamento su tavola, il test finale. Ok, allora, Arduino è pronto. Ora cosa dobbiamo fare prima di tutto? Innanzitutto, se avete collegato Arduino, staccatelo, perché serve da spento. Una volta che abbiamo tutto pronto, possiamo andare a prendere la scheda Ethernet ed applicarla sopra la nostra scheda Arduino, in questo modo. Così abbiamo proprio collegato la scheda, fisicamente abbiamo collegato la scheda Ethernet a quella di Arduino. Ora collegate il vostro dispositivo, e se ovviamente se avrete fatto tutto giusto, vi lampeggerà. Ora, cosa dobbiamo fare? Ora ci dobbiamo spostare sulla tavola. La tavola è semplice, c'è una breadboard. Cosa dobbiamo fare? Allora, innanzitutto, ora dobbiamo impostare il beeper, praticamente quello che è il beeper a seconda del nostro tipo di segnale che vogliamo fare. Quindi, in questo caso, tenete sempre d'occhio il più o il meno, perché c'è scritto di solito da un lato e dall'altro, e tenete d'occhio questo più o il meno e andatelo a inserire nella breadboard. Quindi, in questo modo. Quindi, il più e il meno è qua. Ok. A questo punto, come ho detto, mettiamo una resistenza di sicurezza da 220 Ohm sull'entrata più del nostro beeper. Quindi dovrebbe essere qui. E andiamo a impostarla da un'altra parte della breadboard, quindi in questo modo, facendo un ponticello che si colleghi proprio in questo modo. Ok, una volta fatto questa cosa, andiamo a prendere due cavi, due cavi restanti che in questo caso sono maschio-maschio. Quindi andiamo a prendere, il grigio sarà il nostro più, e invece il meno sarà il nostro marrone. Ora, ci dobbiamo spostare su Arduino. Arduino che è praticamente pronto. Ora, essendo che questi cavi sono femmina, per realtà, e quindi il meno è il nero, andremo a collegare il GND in una delle entrate GND di Arduino, in questo modo. Ora, se avrete fatto tutto giusto, in teoria il beeper funzionerà già così di conseguenza. Quindi proviamo a testarlo. Collegatelo al 3,3 volt, oppure al 5. Come sentite funziona, quindi vuol dire che il beeper è collegato con successo. Ora andiamo a collegarlo al numero 3 della nostro Arduino, in questo modo. Ora la nostra scheda è pronta, quindi siamo pronti ad andare sul programma. Perfetto. Se avete fatto tutto giusto, scaricate lo schema e fate carica su Arduino. Ovviamente Arduino ora lampeggerà, perché ovviamente riceverà le informazioni. Quindi attendiamo che venga caricato. Ok, Arduino ha caricato il programma. Ora dobbiamo collegarlo via internet. Come si fa? Si prende un cavo Ethernet, quindi in questo modo, e lo andiamo a collegare all'interno, qui. La nostra scheda Ethernet, se avete fatto tutto giusto, lampeggerà. Quindi siamo pronti ad andare sulla pagina web. Vi ricordate prima quando vi ho detto, impostate un IP che sia compatibile col vostro router? È perché comunque la scheda d'IP, ognuna ha il suo tipo di router. Quindi nel senso, ripeto perché non si è capito. Allora, essendo che ogni router ha il suo IP, di solito è scritto sotto il nome del gateway. Dovete inserire quello giusto, ovviamente. Se no, il vostro IP non funzionerà. In questo caso, noi ci basterà fare 192.168.0.50 slash buzz e verremo reindirizzati nella nostra pagina web. Ok, adesso a questo punto sappiamo che funziona. Cosa dobbiamo fare ancora per capire se il nostro buzzer funziona? Dobbiamo decidere uno di questi valori. 500 Ohm Cioè, scusate, 500 Hertz Non so se si sente Non so se si sente, eh 1975 3000 8000 8000 Come sentite il suono è uguale negli ultimi tre anche perché la resistenza è quella però nel senso, la cosa che cambia è che comunque dà sempre più fastidio sugli 8000 poi se imposti su 3000 è pochettino diverso magari nell'audio non si sente molto 1975 500 500 E' spento Quindi, questo era il test testa il tuo buzzer Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo Ciao ciao!